Buongiorno ragazzi, buon venerdì e ovviamente ancora una volta buon anno, ormai buon anno, buon anno, buon anno, abbiamo il volta stomaco, però visto che pochi giorni non ci siamo visti, buon anno ancora. Cosa abbiamo oggi per voi? Andiamo a vedere. Oh, grande! Saldi! Giustamente i negozi cominciano i saldi, i saldi dopo Natale, anche noi abbiamo inventato i saldi. 15% su tutto lo shop online dal 7 di gennaio, quindi sono già attivi, cioè da un po' di giorni, dal 7 di gennaio fino al 31 di gennaio. 15% sono assolutamente una bella scontistica per un settore come il nostro di accessori. Shop.electro, segnomeno, discal.com è dove trovate tutto quello che volete acquistare nel campo mio, ma non soltanto le lampadine come vedete, le SuperWide, le Crystal Chrome, le LED, eccetera, eccetera. Anche il Bardal, quindi anche il settore dell'officina, officina 5x3, chi viene a fare da me il tagliando e acquista ovviamente il Bardal, che io vendo solo il Bardal, ha il 15% di sconto anche sull'olio o sui lubrificanti o sugli additivi o comunque tutto il mondo Bardal. È interessante anche questo. Ricordo che il mio shop online non ha soltanto lampadine Bardal, sensori di parcheggio, torce, la linea Re-A-Work, ci sono tante cose interessanti, ci sono anche tutti gli accessori degli interruttori, ci sono tante cose interessanti che magari vi viene in mente di acquistare allo sconto del 15% fino al 31 di gennaio, che è una cosa assolutamente buona. Ricordiamo sempre, io faccio sempre delle iniziative molto positive, ricordiamo anche il Black Friday che ho spaccato almeno 40%, sono venuto incontro anche con i saldi, ovviamente non 40% perché abbiamo molto più tempo, 7 gennaio 31, quindi molti più giorni, per poter comunque venire incontro alle persone che vorrebbero toccare con mano i prodotti di alta gamma originali, la qualità comunque sia del prodotto originale, marchiato Riatech, Xtech, Luxury LED Interiors, che detiene il marchio la Ria World Italia, che è una società italiana, quindi assolutamente è un'innovazione, è una cosa in più che posso dare sempre per venire a voi incontro, perché magari, Roberto, cavolo, i tuoi prodotti sono buoni, però quanto costano? Do sempre la possibilità, tutto l'anno, comunque di scontistiche, quindi di riuscire a venire incontro a voi. Spero che questa cosa vi fa piacere, ecco, visto che molte persone non lo fanno, io invece sono sempre molto attivo su queste cose. Bene, ricordo sempre, su tutto sul nostro sito, sconto almeno 15% dal 7 gennaio 2020, ovviamente, al 31 gennaio 2020. Bene, come sempre, brand principale, elettro discount, un bel like su Facebook, il sito inter principale, elettrosegnomenodiscount.com, info, chioccio all'elettrosegnomenodiscount.com, ovviamente il sottoscritto, Roberto Gaudieri Channel, mi raccomando, seguite le stories su Instagram, mi raccomando anche su Instagram, ma anche su YouTube, mercoledì 18.30, sempre live. Ovviamente il canale YouTube è chiaramente una bella iscrizione al canale, 029826 0207 il numero fisso, 393 95 87 655 è il mio numero, solo parte tecnica, solo parte tecnica. Via Primo Maggio al Civico 16, zona industriale, sud Milano, San Zeno e Lambo, ovviamente provincia di Milano. Mi raccomando, seguitemi. Ciao. Ciao.